Il giovane iraniano, Firouz Jai, ha uno dei campioni del mondo di scacchi. Doveva giocare contro un giocatore israeliano. La federazione iraniana gli ha chiesto di non giocare. Lui ha protestato dicendo, la politica non ha niente a che fare con lo sport e ha chiesto asilo in Francia. La Francia lo ha ricevuto, e ha ottenuto la cittadinanza francese, e ieri gli ha vietato di giocare contro un giocatore russo.